Ciao ragazzi, come state? Allora, un po' che non ci sentiamo, mi prendo una pausa al volo in questi giorni che sono giorni pesanti, molto impegnativi. Mi prendo una pausa con il room. Pepito, è un room molto rilassante, c'è poco da dire. Gli odori sono quelli degli agrumi essiccati, dello zenzero, delle foglie di tabacco, sentito l'odore del sandolo. Allora, perché mi piace questo room? Prima di tutto perché l'ho selezionato io e quindi una botta di umiltà. Però, tanto per essere chiari, spesso i room veramente buoni non sono quelli che, non posso dire i nomi, che sono ricchi di caramello, che vi si piantano sullo stomaco per quanto sono pesanti. Io ho fatto una selezione su un room e ho scelto il room che piace a me. Quindi un room che al palato è secco, ma conserva la dolcezza naturale di un room come deve essere fatto. Non lo possiamo chiamare agricolo per ovvi motivi, ma tutta la freschezza, la fragranza al naso, ha una parte floreale che è meravigliosa. Questo qui lo abbini finalmente, finalmente un room che puoi abbinare non al solito cioccolato amaro, perché alla fine i room pesanti non sai cosa abbinare. Ragazzi, io vado proprio chiaro sulle cose. Questo lo abbini finalmente alle finezze, alla finezza di una pasticceria, alla piccola pasticceria, alle creme, alle creme di qualsiasi tipo, anche lo zabaione, qualsiasi tipo di crema. Lo abbini anche a cose semplici come può essere un buon panettone artigianale. Lo abbini, lo puoi abbinare anche ai formaggi. Io ho fatto delle prove, formaggi, caprini, pecorini, media esposionatura, fantastici. Il palato non ti stanca mai, ti richiama sempre al nuovo sorso. Tanta roba. È un room che sto mandando in giro per varie zone d'Italia, me lo stanno già chiedendo anche fuori dall'Italia e questo per me è una grande soddisfazione. Ciao ragazzi!